Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Loredana Lecciso non c'era all'evento per gli 80 anni di Albano, svelato il perché. Martedì 23 maggio 2023, Canale 5 ha trasmesso l'evento musicale Albano, 4 volte 20, registrato in occasione dell'ottanta esimo compleanno del cantante di Cellino San Marco. Il concerto realizzato all'Arena di Verona ha riscosso un buon successo con 3 milioni di telespettatori. Sul paico sono saliti tanti artisti, ospiti di Albano, ma non è passata inosservata l'assenza della moglie Loredana Lecciso. In molti si sono chiesti come mai non ci fosse. Come riporta Lego.it, è stato proprio Albano che ha risi a sottolineare l'assenza della moglie al Corriere. Il cantante pugliese ha confessato di aver invitato anche Loredana Lecciso a salire sul palco e cantare, ma che è stata proprio lei a tirarsi indietro. Il motivo è presto detto. La donna ha voluto lasciare la scena della serata evento al marito, ai figli Yasmin e Albano GR, e anche ai figli che Albano ha avuto con l'ex moglie Romina Power. Yard, Kriste e Romina GR.